Inmergas è presente in 43 paesi del mondo, un mercato globale che deve trovare in ogni prodotto contenuti tecnologici sempre più avanzati, ma anche elementi riconoscibili, lo stile Inmergas. Come si è evoluto il design Inmergas dalla prima caldaia a queste nuove linee? All'inizio abbiamo cercato un corporate design facilmente identificabile, con forme chiare e contorni ben definiti. Successivamente abbiamo ricercato soluzioni più emozionali, più percepibili dai clienti finali, con un'associazione diretta, evidenziando un elemento di grande importanza per Inmergas, la fiamma. Da allora, ormai da molti anni, il segno grafico che caratterizza il frontale delle caldaie Inmergas è la fiamma. La fiamma è un elemento molto importante per identificare il marchio Inmergas, è un elemento distintivo del logo aziendale e rimanda direttamente alla tipologia dei prodotti. È il fuoco, la fiamma, che produce calore nelle caldaie. Un altro aspetto più estetico è che la fiamma divide la caldaia in due parti, più sottili ed eleganti. Ma c'è di più, c'è un elemento di profondo contenuto culturale. Il segno grafico sul frontale delle caldaie Inmergas rimanda alla spina, che spesso si vede nei musei sugli scudi dei legionari romani, come simbolo di robustezza e solidità, un simbolo usato anche in epoca precedente dai guerrieri etruschi e celti. A segnare lo stato dell'arte nella produzione Inmergas esposta a mostra a convegno 2014 è certamente la caldaia del cinquantesimo, la nuovissima, Vitrix TT. Il design, anche nella nuova Vitrix TT, mantiene gli elementi caratteristici dei prodotti Inmergas. Il family feeling è confermato, ma li combina con una piattaforma tecnologica completamente nuova e l'intenzione del nuovo design è quella di rendere leggibile questa nuovissima tecnologia nel mercato globale. È un design marcatamente vocato alla visione internazionalizzata che Inmergas ha scelto come linea di sviluppo. In due lettere c'è un po' il DNA di questo nuovo prodotto. TT perché e con quali vantaggi competitivi? TT sta per Top Tech, vale a dire è il nostro prodotto di punta della gamma a condensazione, perché ha alcune caratteristiche particolarmente innovative. Solo per citarne qualcuna, ha un controllo elettronico della combustione che assicura una completa sicurezza durante tutto il suo funzionamento, ha uno scambiatore completamente nuovo sviluppato per massimizzare l'efficienza soprattutto ai carichi intermedi, ha dimensioni compatte e soprattutto è stata sviluppata su una piattaforma che a regime sarà composta da oltre 20 diversi modelli. Ognuno può scegliere il prodotto fatto apposta per il proprio tipo di impianto.